... Oh, papà non lo farmi dire così tutto, preso affittato, se non potessi aver raccolato con la barba lunga, sono un po' di messo, e quindi andiamo a leggere così. Sì, 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 sì. Sì, sì, però lo fanno dire almeno, perché se tu parli di molti che ragioni, e io qua ho detto che tu non devi commentare le cose, non devi raccontare, perché se no almeno diciamo, questo sta meglio di me e gli altri. Quindi tu meno parli e non è così. La gente fa la domanda, fai lì, però non hai capito. Sì, sì, sì. Perché un po' così non è ci senti poco, perché non è ci senti poco. Sì, 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 sì. E' un altro allianza, come c'è l'altro stato, nell'altro non ha connesso. L'altro è un altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.